Formazioni Atalanta-Juventus-Fiale Coppa Italia. Domani sera all'Olimpico di Roma. I bookmakers danno i bianconeri favoriti. Domani sera per la finale di Coppa Italia si incontreranno Juventus e Atalanta. Sarà la seconda volta che le due squadre si affrontano in questa competizione in finale. La prima volta è stata nel 2021 e l'ha vinta la Juventus con reti di Kuluseschi e Chiesa. Per l'Atalanta aveva segnato Ruslan Malinosuki. Ma quella di domani sera sarà tutta un'altra partita. Infatti sarà l'Atalanta a partire come favorita almeno secondo i giornalisti sportivi. L'Atalanta viene da una finale di campionato a dir poco esuberante. La squadra appunto appare in grande forma e si presenta senza scamacca squalificato e gli indisponibili Olm, Kolasinac. La Juventus arriva da tre mesi davvero terribili dove ha vinto solamente una volta e viene dal quinto pareggio, consecutivo in campionato. Inoltre nell'ultima partita di campionato è riuscita a pareggiare contro la Salernitana già retrocessa con sei panchinari in campo. Insomma per la vecchia signora una partita che si presenta tutta in salita. Inoltre nella partita di domani sarà priva di Locatelli regista di centrocampo. Al suo posto Nicolussi Caviglia promettente giocatore della Next Gennaio ma che ovviamente non vale quanto Locatelli, anche come esperienza nelle partite come quella che dovrà affrontare domani sera. Nonostante questo le società di scommesse vedono leggermente favorita la Juventus sull'Atalanta. Queste le probabili formazioni. Atalanta, 3-4-2-1 Carnesecchi, Scalvini, Ien, Ginsiti, Sappacosta, Ederson, De Rune, Ruggeri, Kupmeiners, De Ketelaere, Lukman, Olgasperini, Squalificati, Scamacca, Indisponibili, Olm, Colassinac, Juventus, 3-5-2 Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiasso, MC Kenie, Miretti, Rabiot, Kostik, Chiesa, Vlaovic, Olallegri, Squalificati, Locatelli, Indisponibili, De Sciglio, Indubbio, Aleksandro. L'arbitro sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli. La partita si disputerà all'Olimpico di Roma a partire dalle 21 su Canale 5. Ovviamente dopo la fine della partita, dato che ormai la Juventus è matematicamente qualificata per la Champions League, è lecito aspettarsi che lo stesso Allegri ci dirà che cosa ha deciso per il suo futuro. In quanto ancora non è chiaro se voglia rimanere o lasciare lui stesso. Grazie a tutti.